e ben ritrovati i miei discepoli ritorniamo in giardino con le mie bombe video importante per spiegare alcune cose sull'impostazione visto che è uscito breve anche il nuovo video video corso sul mio olivastro lavoretto una chicca esagerata anzi prima prima di tutto perché mi sta chiedendo il mio informazione sul mio cipressino mi piace qua non è più disponibile non so se l'avevo già detto è stato prenotato da un mio discepolo quindi a meno che lui non si tira indietro al momento non è assolutamente disponibile e penso proprio che se la viene a prendere entro a fine anno tornando noi per quanto riguarda l'impostazione sto ricevendo sempre un sacco di domande perché ovviamente è il punto cruciale quindi è il salto di qualità quindi la trasforma rappresenta la trasformazione da pre bonsai a bonsai quindi l'impostazione primaria è assolutamente una cosa che bisogna far bene perché rappresenta il 90 per cento di quello che verrà dopo chi vi dice che mi fa altre storie nome in realtà prima bla bla prima c'è la coltivazione ok perché sennò sono sapete coltivare voglia tempo stare tirate fuori dei ciclamini secchi che è una meraviglia e quindi è importantissimo saper coltivare poi dopo mettere mano e qui e dare forma alla pianta e questo è il cento è il cento per cento di quello che dovete saper fare poi dopo non c'è più un cazzo di niente quindi chi vi dice impianto smosi le lune le maree la propaggine ragazzi quando c'è la concimazione sul strato che va bene la prevenzione ok quindi nessuna malattia sulla pianta e sapete anche impostare ragazzi che che cazzo dovete saper fare di più c'è finita lì dopo si porta avanti si va a rifinitura si va a miglioramento e maturazione della pianta torniamo noi scusate per quanto riguarda le tempistiche e soprattutto quando mettere mano le piante e come mettere mano le piante allora ovviamente l'oggetto in altri 200 mila video bisogna saper fare veramente le cose bisogna saper valutare bene e prendere la strada giusta perché se avete dei dubbi e ve lo dico sempre è inutile e inutile e se non sapete anche quanta vegetazione tenere su è veramente sommato che urla anche se non sapete quanta vegetazione tenere su ragazzi al momento dell'impostazione rischiate di andare a spolpare il materiale e quindi l'anno dopo avete ancora meno perché la pianta se togliete troppa roba c'è caso che inizia a tirare indietro perché va in difficoltà quindi bisogna sempre mantenere quel bilanciamento che c'è fra radici e materiale quindi regola 1 ovviamente la pianta deve stare bene lo faccio vedere anche nel nuovo video impostazione la pianta deve fare dei cacci così durante l'anno cioè deve fare dei cacci così quindi che vi dice è un pallone di verde non si capisce niente non capisce un cazzo quella gente lì ragazzi perché se prima non si fa sparare rinforzare ma cosa volete mettere mano quindi tutta la stagione ce la si gioca in maniera preventiva da genna da marzo fino adesso ok per rinforzare far cacciare fuori vegetazione ed è adesso il momento in cui si può già se la pianta sta bene se è pronta si può impostare quindi direzionare i primari e tirare fuori il meglio quindi preparare la pianta poi a diventare una bomba devastante ok però attenzione c'è tutto il prima tutto il prima della coltivazione per poi arrivare al momento top che adesso per selezionare e impostare poi la pianta va diciamo in stagione vegetativa va a riposarsi in inverno per il prossimo anno da dove avete tagliato che avete stretto e dopo da lì si inizia subito poi a risistemare poi dopo in estate magari tutta la vegetazione che vi rifà dopo ok però mi raccomando prima la preparazione e poi boom poi si si posiziona però deve essere un posizionamento fatto bene cioè inutile far lì far sempre le cose metano e mi mamma ma ma il prossimo anno farò ma vaffanculo una volta che siete lì dovete impostare i primari ok poi secondari se non sapete bene lasciate restare fate l'anno dopo ma i primari dove sono nella giusta inclinazione e soprattutto la pianta adesso nella giusta inclinazione perché bisogna valorizzare il piede e bisogna dare anche con necessità queste cazzo di piante bisogna dare anche una direzione soprattutto ok però attenzione quando sono destinati i rami da tenere molto spesso un pochettino di roba rimane anche se magari sono rami che in teoria vanno fatti saltare perché sono la pianta rimane senza vegetazione non è una bella cosa cioè prima del riposo invernale se avete poca vegetazione non è una bella cosa quindi cercate sempre di mantenere su nel video io faccio vedere che bene o male lascio anche qualche ramo in più ok questo perché perché tanto bene o male l'anno prossimo mi rifarà tanta roba e magari qualche ramo salta di netto ok però per dare forma silhouette soprattutto per dare la possibilità alla pianta di ricaricarsi bene anche durante l'inverno quindi non andare in sofferenza ho lasciato anche altre cose però sono cose che magari spiego bene quindi per chi sta vedendo il video è una cosa fondamentale cazzo ma i video dove imposto le piante ma guardateli su uno schermo cioè non le guardate sul cellulare così che cazzo capite cioè va bene qualcosa si vede ma ma che cazzo capisce la gente che guarda i tutorial avanzati dove faccio vedere più più cose diciamo ma in uno schermino così ma come cazzo fate a a godere di quello che viene spiegato di quello che viene fatto una cosa poi fondamentale durante il video magari non si vede bene tutto ovviamente perché non è che ho 18 camere da presa non ho una regia da italia 1 da film cinematico ovviamente sono io che faccio il video ok guardate però bene alla fine quando faccio girare la pianta e li mettete in pausa il video ogni tanto guardate bene quando giro è andata a cogliere veramente la posizione dei rami e come taglio cioè come vengono tagliati i palchi cosa vuol dire i palchi vengono tagliati vuol dire che uno sta qui e quello che sta dietro sta un pochettino più su un po cioè quelle sono delle finezze che fanno un salto di qualità a fine del lavoro cioè l'anno dopo io avrò un salto di qualità esagerato sulla pianta perché tutto è sfalsato e tutto viene tagliato avanti indietro in base ai rami le posizioni cioè io è lì che io vado a creare la dinamicità e la naturalezza ok con l'impostazione primaria quindi dove posiziono bene i rami e a fine video quando giro che faccio vedere bene è lì che si coglie bene 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 quello che ho fatto in quei dieci secondi finali cristo si vede bene ok dove cazzo ha messo i rami quel cristo che sta lavorando manca il fiato quindi per chi ha una cosa fondamentale poi ragazzi il video è gratuito non rompetemi i coglioni cioè non posso stare lì a spiegarvi anche anche come cazzo dovete mettervi le mutande di mattina quando vi svegliate che vi fate il bidet ok cioè è un video gratuito di 28 minuti di mezz'ora godetevelo è gratis quindi se dovete fare un ordine lo aggiungete a fine fine ordine il sito ve lo sconta al cento per cento ok quindi non aspettatevi un video di quattro ore dove ci sono dove vengono fuori gli alieni dove atterrano dove poi arriva che cazzo ne so iron man spara laser quella è una roba che non esiste ok nel video spiego tutto molto bene e soprattutto vi metto nelle condizioni di capire come fare lavori considerate questa cosa che è fondamentale ci sono tante persone che sanno come si fa l'impostazione primaria ma sapere e comprendere veramente è un altro mestiere e poi soprattutto sapere comprendere e poi mettere mano e tirare fuori quello che va tirato fuori è un altro mestiere ancora quindi il 90 per cento della gente che chiacchiera che fa i video su youtube come me che cercano di imitarmi la granulometria lo sfagno qui la terza gemma il sabamichi ma ma che cazzo non capisco le lì ragazzi non capiscono un cazzo ma non è che perché ve lo dico io perché non hanno piante sotto da tre quattro mila euro che poi in certo punto migliorano se durante gli anni queste piante non diventano dei mostri oppure se non c'hanno neanche i mostri se non c'hanno neanche le piante sotto ce ne ciclamini quello vi fa capire che sono neofiti proprio come voi però si divertono a fare i video ok ed è per questo e quelle persone non potranno mai lavorare con il bonsai invece posso sono partita iva c'ho marchio registrato c'è una linea dei prodotti che sono fenomenali sono mostruosi come ve lo devo dire ma lo so che vi fa strano di vedere una persona che lavora in italia soltanto cioè che si mantiene soltanto con il bonsai che è preso come un hobby una nicchia piccola può essere veramente strano ma ragazzi c'è il mondo dietro cioè chi sa fare le cose il bonsai lo vede con un'altra prospettiva cioè quello che vi si propone anche le impostazioni e la coltivazione e il mantenimento delle piante che vi si propone nei centri commerciali nei negozi nei corsi base non ha nulla a che vedere con un mio video di mezz'ora fatto apposta dove vi faccio vedere dove imposto una pianta ok fine questa è la verità quindi sapere e saper fare saper fare bene poi perché tutti sanno fare no ma saper far bene e capire quello che è stato fatto ragazzi è tutta un'altra cosa ok quindi fate l'ordine sul sito questo mese beccatevi sto video l'ennesimo gratuito che vi aiuterà a fare l'ennesimo salto di qualità ok quindi perché è gratuito perché io do valore gratuito alle persone soprattutto ai miei clienti quelli che comprano quindi perché è gratuito perché io comunque sia ci vado a guadagnare ha detto papale papale non è che vi sto regalando niente ok ai miei clienti quelli che comprano tutti i mesi io continuo a dargli valore gratuito valore aggiunto in modo che loro facciano salto di qualità e in modo che imparano a fare bonsai da soli con le proprie mani perché per quando uno migliora scusate bene quando uno migliora si diverte di più e ha bisogno di anche i prodotti per coltivare le piante perché poi compra più piante e vuole sempre più vedere la trasformazione ok a differenza di tutti quei coglioni che invece professano e poi non vogliono il vostro bene perché se imparate poi vi slegate da loro ok invece io ho tutto il vantaggio di farvi migliorare in modo che siete autonomi non mi rompete il cazzo su whatsapp così non mi scrivete avete il vostro video imparate comprate i miei prodotti comprate i miei substrati e anno dopo anno ragazzi la vostra collezione migliora cioè chiudendo questo video sennò diventa una pappardella ma se sapete impostare le piante una piante che comprate a 200 euro l'anno dopo cioè l'anno dopo dopo che ci mettete mano la vendete subito a 800 cioè anche a 1000 questa è la verità è quello che faccio io compro sistemo e rivendo al doppio al triplo al quadruplo anche a 5 o 6 volte tanto perché una pianta impostata ragazzi oggettivamente ha un altro sapore un altro valore e fa venire la collina in bocca alla gente ok soprattutto se è materiale che già ha una base bella tosta il mio olivastro ragazzi c'è una base così ok poi sale su fa tutto il movimento e scende è una bomba cazzo chi vi diceva ma no ma una palladiva non si capisce niente ma sono loro che non capiscono niente ragazzi cercate di capire sta cosa sono quelle le piante che vanno lavorate sono quelle le piante che vanno comprate sistemate perché diventano dei pezzi rari da collezione diventano delle bombe c'è una texture c'è una texture della madonna nella corteccia corteccia della madonna piede della madonna c'hanno pure il secco c'hanno tutti i primari che sono pronti a essere impostati ma che cazzo volete di più ok ciao a tutti meno male che mi sono tolto il reggiseno perché fate i bravi e cercate di imparare impostare le piante perché una volta che imparate a fare quella cosa lì è fatta ok questa è la verità ciao a tutti valutate inclinate bene impostate e rivendete al prezzo 4-5 volte superiori perché effettivamente vale di più ed è non è una ladrata vale di più sono quei soldi lì che valgono ok ciao a tutti